E parliamo adesso di Drupace vedendo subito la situazione per Cidia molesta. Presenza contemporanea di tutti gli stadi, quindi uova, larve e ancora qualche adulto. In generale però in campo si riscontra fino ad ora una limitata presenza di questo insetto. Anarsia è iniziato il volo al termine della scorsa settimana e si prevede un inizio della deposizione delle uova al termine di questa. Cidia funebrana, fase di massimo volo degli adulti, 60% di uova già deposte, valore di larve nate compreso tra un minimo di 20 e un massimo di 30. A te Sergio. Eccoci qui in un peschetto, come vedete alla mia sinistra ci troviamo nella fase di ingrossamento dei frutti e per quanto riguarda Cidia molesta è il principale insetto del pesco. Diciamo che la situazione è positiva quest'anno sia in questo peschetto che nella maggior parte dei peschetti ferraresi. Si nota solamente la presenza ad oggi di qualche getto cidiato. Ci troviamo nella fase di passaggio fra la prima e la seconda generazione e vista la situazione positiva di cui abbiamo appena detto non sono necessari trattamenti in questo momento. Per quanto riguarda Anarsia sta iniziando il primo volo e si sono in effetti già registrate le prime catture nelle trappole sessuali. Ricordo che questo insetto oltre ad interessare il pesco interessa anche l'albicocco e può avere un ruolo molto importante per quanto riguarda l'esito della difesa. Ad ogni modo in questo momento è un po' prematuro parlare di difesa e vi daremo le indicazioni per quanto riguarda i trattamenti a partire dalla prossima trasmissione. Sempre per quanto riguarda pesco e albicocco invece vanno continuati i trattamenti con zolfo per quanto riguarda la difesa nei confronti del mal bianco. Infine per quanto riguarda il susino per l'acidia funebrana ci troviamo nel pieno della fase della nascita larvale come abbiamo già indicato la settimana scorsa si può intervenire contro questo insetto chi non l'avesse ancora fatto è ancora in tempo questa settimana e può intervenire con i prodotti a base di Fosmet oppure con il Coragen. E anche per oggi siamo arrivati al termine dell'intervento del medico delle piante e un saluto a tutti.